Aspetta come si... Sì, prima la vediamo Cosa è entrato? Cato prima Anche perché è perso per una tartaruga qui c'è dentro C'è al collare qui Non mi ascolta neanche perché ha perso la tartaruga là in mezzo Ci sono due baia Cioè nel senso che... Il importante sia... È che lui è tranquillo No, è buonissimo Allora metti lì Ehi Vabbè Vai bravo Vabbè Vabbè bravo Vabbè bravo Vabbè bravo Vabbè bravo Vabbè bravo Vabbè bravo Tu hai fido di un cane che mi hai fatto morire Ciao papà dal canale dai Ehi ciao Ciao Ciao